La prima giornata del nuovo Papa Francesco, Orge Mario Bergoglio, eletto ieri sera dopo cinque scrutini del conclave, è stata una giornata di gesti particolari. Il nuovo Papa ha voluto recarsi nella Basilica di Santa Maria Maggiore, la più antica delle basiliche dedicate a Maria, per deporre personalmente un piccolo mazzo di fiori davanti all'icona della Salus Populi Romani, l'antica icona che protegge la città di Roma. È entrato lui in chiesa tenendo questi fiori che ha voluto portare e deporre. Il Papa è arrivato non a bordo dell'auto papale, ma di una berlina più modesta della gendarmeria vaticana e senza tutta la scorta e uscendo dalla chiesa ha voluto andare alla Domus Sacerdotalis, la casa del clero di via della scrofa 70, dove ha alloggiato durante questi giorni, due settimane che è stato a Roma prima di entrare in conclave e dove da tanti anni alloggia quando viene a Roma. Ieri sera dopo essere stato eletto Papa aveva chiamato il direttore della casa del clero e gli aveva detto che questa mattina sarebbe passato perché voleva ritirare le sue cose, cioè la sua valigia e anche saldare il conto. Pensate il nuovo Papa è arrivato, è sceso dalla macchina, è salito nella sua camera con un altro sacerdote che lo aiutava e lui stesso, il nuovo Papa, si è fatto la valigia e poi è sceso e come uno qualsiasi degli ospiti ha insistito per pagare il conto delle due settimane in cui è rimasto ospite nella Domus Sacerdotalis. Quindi è tornato in Vaticano e questo pomeriggio ha celebrato per la prima volta concelebrato con tutti gli altri 114 cardinali all'interno della Cappella Sistina. Ci si aspettava un testo in latino e la prima omelia è quasi sempre un messaggio urbi e torbi, invece il Papa inaugurando uno stile che è probabile diventi sua caratteristica durante questo pontificato, ha preferito commentare le letture parlando a braccio, sfogliando il Vangelo senza l'ausilio di alcun testo né in latino né in italiano. Ha detto che la Chiesa deve camminare, edificare e confessare Gesù Cristo, ma ha pronunciato anche delle parole molto forti, ha detto se non confessiamo Gesù Cristo la cosa non va, diventeremo una ONG pietosa, cioè la Chiesa senza la confessione di Gesù diventa soltanto una ONG e ancora chi non prega il Signore prega il diavolo, quando non si confessa Gesù si confessa la mondanità del demonio. E queste parole molto forti il Papa le ha attribuite a tutti, anche ai ministri della Chiesa, ha detto che così, cioè chi non prega Gesù può confessare la mondanità del demonio, questo possono esserlo anche i preti, i vescovi, i cardinali e i papi, ha detto, mentre i veri discepoli di Gesù sono quelli che lo confessano e che confessano Gesù crocifisso. Dunque ci ha abituato già da questa prima omelia a uno stile semplice, non a testi scritti e a lunghi discorsi, ma a uno stile semplice, tutto basato e fondato sulle letture e sulla lettura del Vangelo. È lo stile francescano del nuovo Papa, appunto del Papa Francesco, che domani incontrerà nella sala clementina, uno a uno, salutandoli uno a uno in un incontro rilassato e conviviale i cardinali. Successivamente, sabato, concederà un'udienza ai quasi 6 mila giornalisti provenienti da tutto il mondo che in questi giorni si sono accreditati per seguire l'elezione del nuovo Papa. Domenica reciterà per la prima volta l'Angelus, apparendo dalla finestra dello studio l'appartamento del Palazzo Apostolico, anche se ci andrà per recitare l'Angelus, ma ancora non vi si sarà trasferito ad abitare. E infine, martedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, il nuovo Papa alle 9 e mezza in piazza San Pietro celebrerà la messa per l'inizio solenne del suo pontificato.